Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di GeneticDenea e a questo secondo gameplay di Dishonored. Dopo essere fuggito dalla prigione, ci troviamo nelle fogne e vediamo cosa ci aspetta a me e al povero corvo che è stato incastrato ingiustamente. Allora, eccoci nelle fogne. Eccoci qua. Trac. Pam. Riprendiamo confidenza con i tasti. Ok. Oh, io non ho ucciso nessuna imperatrice. Va bene, mi hanno incastrato. Qualcuno è passato di cui? Sì. Cos'è questo? Messaggio da un amico. Blah, 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 blah. Non leggo perché non ho voglia. Ok, ma l'ho lasciato qualche cosa per me. Questo qua ve lo lascio fuori così ve lo leggete poi con calma. Cosa c'è qua dentro? Cosa c'è qua dentro? Oh, la madonna. Mi. Ratti aggr... Cioè... Ho più paura dei ratti che delle guardie, cazzo. Senti come se lo stanno smaciullando, beh, che schifezza. Poveracci. Se li trovo io facevo prima. Gli sparavo un colpo. Ecco lì. Male da tirarti di merda. Oh, merda. Siamo a stare attrati dai cadaveri. Sì, sì, bravo cretino. Via. Ciao raton. Ratin raton. Ai. Ui, ai. Ok, com'è. Yeee. Figo. Che schifo. E lo fogna. Beh. Ti vedo male, amico. Ti vedo non tanto bene. Sei tipo... Tipo morto. Io intanto sto per morire. E non ho neanche un Medi. Cos'è che vuole? Ok. Eccoci qua. Vira la ruota. Yeee. Ok. Che cazzo è quella cosa che lampeggia? Un barilotto di mine. Questa è una mina. Una mina sul carri diretti al distretto sommesso. Sì, ma me ne prego. È troppo lontano. Non voglio beccarmi la peste. Tu? No. Ma le disirme... Ciao raton. Forse. In ogni caso, buttiamoli giù e che ci pensi noi topi. Ok. Ok. Aspettate, aspettate. Guardate come sono bastardo. Tanto tu sei morto. Vieni qua. Ehi raton. C'è la tua cena. Sì, ma perché sono caduto? Cazzo. No, mangiate quello. Oh, quello dovete mangiare. Porca miseria. Bravi, Toby. Magari se lo lanciavo dall'assù era meglio. Ok. Giriamo un'altra ruota. Vediamo se vinco qualcosa. E si è aperto la porta. Ho vinto la porta. L'apertura della porta. Attenzione, cittadini di Dunborn. Corvo, l'assassino della nostra amata imperatrice. Il rapitore dell'erede al trono, Lady Emily. Non c'entro. Non c'entro. Ha ucciso alcuni coraggiosi pubblici ufficiali. Eh. Mangiare forse è ripristino la vita. Ho eliminato ad ogni coppolo. Più o meno. Cos'è? Via. Tu? Ma... E prendi quella cazzo di cosa. Ok. Ok. Come cazzo si fa salire? Ah. Una catena. Opa là. Oddio. Ah, pensavo che l'ho caduto giù. Vabbè. Afferra. Ok. Hola. Soldi. Non so cos'è ma lo prendo lo stesso. Soldi. Beh. Potranno sempre servire a qualcosa, no? Magari se li vendo. Cazzo a qualcosa. Mi sono disattivo? Oh porca puttana vacca, merda. Oddio. Cos'è questo? Sti barilotti. Oddio. Ma che cazzo? Ma sono quelli? Ma dai. Ma sono un pirla. Ok. Ecco perché mi stava lampeggiando da un'ora. Che pensavo che erano tipo delle mine. Invece sono i cosi di salute. Vabbè. E vabbè. E vabbè dai. Ho sbagliato. Vediamo un po'. Che bella fogna. La fogna. Cos'è? Soldi, soldi, soldi. E prendiamo tutto Che ci fanno i soldi qua giù Sì ma che schifo Cioè prendi qualcosa che trovi in giro Te lo mangi pure Non sai neanche che cazzo c'è dentro Vabbè Comunque Andiamo di trovare Ah vada via al culo Cosa cazzo era? Va merda C'era un'altra mina Cazzo Oh cristo santo Una lettera? Per lord protettore Se mi chiamo lord protettore Perché io proteggo Eeeh Cosa c'è qua dentro? Eeeh Tanta bella roba per me Eeeh Ottimo Ottimo Ottimissimo Bene Equipaggiare armi potere Tarari tarara Tarari tarara Quindi equipaggiamoci Ma si Ma si Ma si dai Bene Quindi per cui Perfetto Saccheggialo Saccheggialo Poi qui dentro Cosa c'è? Pac Tac Tic Tuc E voilà E voilà Cosa c'è? Ok Traccheteo Io pensavo di rattare il bottone Di esplodere Faccio la cassaforte Buh Buh Tappetappetappetee Sì qua sicuramente dovrò guardare l'anno di un whiskymon Non c'è il whisky Non c'è il whisky Non c'è il whisky Vabbè Eeeh Dai proseguiamo Basta cazzeggiare Ma è divertente Mio Poi cosa c'è qua? Niente Ok Che cazzo è? Lo sai è chi diamo la caccia Non affrontarlo da solo E se in giro non c'è nessun altro della squadra Allora fai molto rumore mentre muori Butta giù qualcosa se ci riesci Bastardo Qui puzza di piangente morto Di piangente morto Il piangente morto Buttati Ma che cazzo stai facendo? Stai pisciando dentro nell'acqua Porca troia Ma te la do io Tac Merda ancora vivo mori Adesso tu vieni con me ti butto dentro nel tuo piscio No Ti piace il tuo piscio stronzo Bene Quindi per cui adesso Cosa ci sarà lì ad aspettarmi Lo facciamo stealth o lo facciamo incasinato Facciamo che uccido tutti dai Tiè muori pezzo di merda Prossimo Sono io Ti uccido Tiè muori bastardo E due Cazzo se... Oh me l'hai evitato Bastardo Sei veloce Dove sei stronzo? Uglialo a madonna Cazzo veloce il bastardo Cioè mi lancia i sassi sto stronzo Vieni qua Dove sei? Dove sei? Muori Pezzo di merda Ti rubo il... Dove sei? Oh cazzo sono finito dentro Ok Sto cazzo di parafulmine Che è? Ah mo Ho già detto che non c'entro Eccolo Ciao amico Ce l'ho fatta Va bene Però prima voglio dare un'occhiata in giro Se c'è qualcosa da prendere Se c'è qualcosa da prendere Bene Questo gameplay Finisce qui E quindi vi lascio vedere L'ultimi Momenti di questo Vieni Ci sono un pasto caldo e un letto Che ti aspettano Ok Perfetto Fine missione Mi darai punteggi Esattamente Obiettivo Bla 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 Quello che è Niente qua Questo gameplay finisce Qua vi aspetto Per il prossimo gameplay Venerdì prossimo Ciao ciao a tutti Da GeneticDNA Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti